Cari amici e cari amici, l'ennesimo colpo alla tradizione cattolica e alla Messa di sempre. Mi riferisco al motu proprio Traditionis Custodes, che già nel nome sembra veramente una presa in giro e sono sicuro che lo sia da parte del signor Bergoglio. Traditionis Custodes è il motu proprio che riguarda l'uso della liturgia romana anteriore alla Riforma del 1970, in pratica sulle messe celebrate in rito antico e in latino. Benedetto XVI, per venire incontro agli feveriani e altri tradizionalisti, ha liberato il messale preconciliare, la cosiddetta Messa in latino nel linguaggio popolare. Francesco modifica le norme delle celebrazioni nella liturgia precedente, il Concilio, e in questo dà l'ennesima e forse definitiva spallata alla Chiesa Cattolica, ma procediamo con ordine. Riguardo a questo argomento, vi comunico che è stato pubblicato un video sul decimo torno interviste, dove veramente è un'intervista magistrale, cioè magistrale è l'intervento di Don Curzio Nitoglio. Il video si intitola La cancellazione della Messa in latino e la fine del cattolicesimo risponde Don Curzio Nitoglia. Lo troverete sul decimo torno interviste, per chi non è iscritto in descrizione e nel primo post in alto troverete il link. Attenzione perché anche oggi, sempre oggi, ho pubblicato anche una della terza puntata esattamente del Catechismo di San Pio X, commentato sempre da Don Curzio Nitoglio. Quindi non vi confondete perché questi sono due video nuovi. Ultime pubblicazioni sono state anche Islam, il burqa, il sesso e la poligamia con la professoressa Agnè Tarchian. Inoltre continua questo bellissimo gemellaggio con gli amici di Idee e Azione e con i video Il Corpo Mistico, Così in cielo e Così in terra, che è un'intervista a Massimo Selis, L'impero interiore, dove c'è un intervento di Dugin, e poi Cristiano Giombetti. Cristiano Giombetti è la prima di una serie di interviste che seguiranno, è un nuovo amico sempre di Idee e Azione. Ma torniamo alla Messa in latino. Parlando con amici cattolici, alcuni vedono questa, della fine della Messa in latino, come la fine del cattolicesimo. E ci sono diverse posizioni tra i cattolici. C'è chi dice che ormai il cattolicesimo andrà a spegnersi e come è finita la religione degli antichi egizi e altre antiche religiose, così sta finendo il cristianesimo. Altri si oppongono nettamente a questo tipo di concezione e dicono che Gesù ha promesso di ritornare, quindi questi sono i segni dell'Apocalisse, i segni dell'Anticristo, tutto ciò che sta accadendo, e quindi si aspetta il ritorno del Cristo. Altri ancora sottolinano il fatto che la Chiesa cattolica, e questa è anche la mia posizione, non potrà tornare mai più come prima. Se continuerà, prenderà nuove forme, ma scordatevi il Papa che si affaccia all'Angelus in Vaticano, ad esempio. Questo non sarà più possibile. E questi ed altri temi saranno trattati proprio sul decimo toro interviste. Ecco, mi raccomando di non confondervi, perché io non pubblico mai due interviste della stessa autora nello stesso giorno. Quindi le interviste pubblicate oggi sono la terza puntata del simposio, dove Don Condoccurso ni toglia, conversiamo sul Catechismo di San Pio X, ma video attualissimo e importantissimo, è proprio l'ultimo pubblicato. La cancellazione della messa in latino è la fine del cattolicesimo, e risponde proprio Don Curzio ni toglia, che tra l'altro fa un escursus e ci dice tutta la storia di quella che volgarmente noi chiamiamo messa in latino. Mi raccomando, iscrivetevi se non vi siete iscritti, datemi una mano, perché sennò io comincerò a pubblicare sporadicamente, non posso dedicare tutto questo tempo a tre canali. Come fare a darmi una mano? Uno, iscrivetevi al decimo toro interviste, parlatene ai vostri amici, il nome è facile da ricordare, decimo toro interviste. Due, lasciate un piccolo contributo al canale, cosa che non dico mai sul decimo toro interviste, perché per rispetto agli ospiti. Poi, chi mi vuole dare un grandissimo aiuto, può sia lasciare un contributo, che iscriversi al decimo toro interviste, dove mi raccomando, troverete questa intervista bomba con Don Curzio Nitoglia. La cancellazione della messa in latino. È la fine del cattolicesimo? Ecco, sentiamo insieme cosa risponde Don Curzio Nitoglia proprio trasferendoci sul decimo toro interviste. Il link in descrizione e nel primo post in alto. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.